Ci metti troppo tempo di entrare, bisogna dirglielo, guarda che si è sganciato quello davanti e ancora lui non è liberato, vedi non entra, ah ma è Claudio che non ha chiuso prima, è Claudio che ha sbagliato, doveva chiudere prima Claudio, ha tenuto troppo l'alto, ha tenuto troppo l'alto, che tira adesso? Grazie